Noi confidiamo che si arrivi a un quadro di nuovi rapporti con il Regno Unito positivo. È nell'interesse del nostro sistema economico, delle nostre imprese, degli scambi che abbiamo con questo grande Paese. Anche se bisogna dire che l'Italia non è tra i Paesi più, tra virgolette, colpiti, più a rischio. Ci sono altri Paesi europei che hanno un livello di integrazione e di interscambio con il Regno Unito molto più rilevante del nostro. Ma noi siamo interessati che la storia del quadro di relazioni tra l'Unione e questo Paese finisca nel migliore dei modi.